Nome? Ivan? Teo? Professione? Idrauliche? Cazzeggiato vero! Il tuo lato peggiore? Eeeh... Bestemmiare in chiesa? Non amo il lato peggiore! Il lato peggiore del tuo socio? Comunista! Fascista! Hai mai tradito? No! Nooo! Hai mai desiderato fare sesso con qualcun altro mentre lo fai con la tua donna? Con mia nanna qualche volta? Nooo! Chi ce l'ha più lungo di voi due? Io! Io! Io le prove! La cosa che ti colpisce di più in una donna? Gli occhi, le tette... Gli occhi... Gli occhi... Gli occhi... I capelli! Cosa vorresti fare in questo momento? Andare a letto! Quello che vorresti fare te! Quante volte ti masturbi in un mese? 31 giorni... 30... 60... 70... Mai fumato la canna? No, mai... Una... Cosa ti fa venire in mente la parola castagna? Mmm... Quando mi hanno beccato rubare al supermercato... La gnocca! Il momento più bello della Tori! Mmm... Un bel pompino... Un bel ricordo... Quando ho vinto una gara... Fra... Un paio di due ore... Il più brutto... No... Ehm... Boh... Non lo so... Ero rimasto chiuso in base al sole... Insieme con Ricky... UAAAHHHHH! Se avessi una bacchetta magica... Cosa cambieresti? Toglierei tutto il comunismo nel mondo... E metterei solo l'anarchico... Nazismo... Farei aumentare le tette a lamelli... there...